Comprare e vendere casa può essere davvero stressante e poco gratificante, specie se provi a venderla da solo o ti affidi all'agente sbagliato. A differenza del Canada e degli Stati Uniti, gli agenti italiani non sono abituati a collaborare tra loro nella vendita, così un immobile spesso riceve poca visibilità. Come conseguenza, il mercato immobiliare italiano risulta frammentato e poco efficiente. In Canada, ad esempio, dove la vendita in collaborazione è una pratica comune nel settore immobiliare, i tempi medi di vendita di un immobile sono inferiori a 30 giorni. In Italia, invece, per vendere un immobile serve mediamente più tempo, ragione sufficiente questa per Remax per rivoluzionare l'intero settore, introducendo il concetto di vendita in collaborazione nel mercato immobiliare. Con questo sistema, l'agente del venditore e l'agente dell'acquirente lavorano insieme nel miglior interesse del cliente. Ma quali sono i principali benefici della vendita in collaborazione? Primo, il tuo immobile viene messo sul mercato da un unico agente Remax e, grazie alla collaborazione, tutti gli agenti possono però proporre l'immobile ai loro clienti. Ciò comporta una maggiore visibilità per il tuo immobile e una vendita più veloce. Secondo, poiché il tuo immobile è proposto a un più grande numero di acquirenti qualificati, il prezzo di vendita sarà il migliore sul mercato. E terzo, grazie alla vendita in collaborazione, gli acquirenti potranno visionare gli immobili a cui sono interessati con un solo agente, beneficiando inoltre di un maggior numero di immobili tra cui poter scegliere. La vendita in collaborazione crea delle opportunità incredibili nel mercato italiano e rappresenta la chiave del successo nella gestione dell'intermediazione immobiliare presente e futura. Scegli con saggezza. Scegli Remax.